Arnaldo Baroni è un audioprotesista di formazione, è un conoscitore molto esperto del settore dell'audioprotesi in Italia e ha appena moderato come relatore anche una parte del discorso sull'Eurotrack qui al Congresso degli Audioprotesisti di Rimini e in particolare si è soffermato sulla qualità della prestazione degli audioprotesisti. Cosa crede che abbia portato questa nuova ricerca dell'Eurotrack 2018 dal punto di vista proprio della conoscenza del mercato, del settore, di cosa pensano i pazienti? Eurotrack è una ricerca estremamente completa e complessa che analizza in tutti gli aspetti il comportamento della persona ipocusica nel suo processo d'acquisto e soprattutto va a valutare con precisione per ogni momento del processo di acquisto o di non acquisto quali sono i fattori fondamentali che ne hanno influenzato il giudizio positivo o negativo, la decisione di acquisto o la decisione di non acquisto. La cosa più interessante di questa ricerca che viene svolta ormai in tutti i più importanti mercati del mondo e le nazioni che sono coperte sono ormai numerosissime, in Italia è già la terza volta che viene fatto, è stato fatto nel 2012, nel 2015 e adesso nel 2018. Ha secondo me come elemento più interessante la comparabilità, quindi al di là di poter scansionare con precisione estrema il comportamento del cliente, tutto ciò che gradisce, ciò che non gradisce, ciò che vorrebbe venisse fatto diverso consente di fare una valutazione complessiva e di capire quanto un sistema paese riesca a generare soddisfazione rispetto ad altri. Questo porta a delle conseguenze molto interessanti anche da un punto di vista politico, cioè andando a fare queste comparazioni ci rendiamo conto di come esistono dei sistemi virtuosi che producono soddisfazione, che producono benessere, mentre ce ne sono altri magari apparentemente migliori ma che in realtà producono risultati decisamente meno soddisfacenti. Vedendolo da un punto di vista del cliente, perché alla fine è il cliente quello per cui noi lavoriamo, il cliente o paziente chiamiamolo come vogliamo, comunque colui che poi utilizzerà il prodotto o servizio che noi forniamo, il cliente dimostra di avere maggiore soddisfazione in tutti i mercati in cui è lasciato libero di scegliere in un ambito competitivo ma all'interno di una cornice normativa molto chiara. In questo ambito è secondo me molto importante ribadire come l'Italia che fino a sei anni fa era un paese con un livello di soddisfazione tra i più bassi rispetto a quelli testati da Eurotrack, parliamo di 70 su 100, più o meno come la Danimarca, comunque non parliamo di paesi notoriamente incivili, parliamo comunque dei migliori sistemi sanitari del mondo, se parliamo di Danimarca, Olanda eccetera. L'Italia sei anni fa era a livello di Danimarca e Olanda intorno al 70, dopo sei anni la ritroviamo esplosa a 81%, che è uno dei dati, dei livelli migliori del mondo. Diciamo che di tutti i tanti paesi che vengono controllati e verificati da Eurotrack, l'Italia è a secondo posto, ha un pelo dalla Francia, 82 contro 81, un minimo gap che serve solo da stimolo che andrà colmato ovviamente con la prossima ricerca. All'ascolto della sua analisi è emerso in particolare il fatto che le diverse politiche sanitarie non sempre producono i risultati attesi, anzi a volte sono sorprendenti. L'Italia in questo momento sta affrontando una fase delicata perché il sistema sanitario pubblico ha un problema evidente e ci sono anche dei cambiamenti in atto, insomma un dibattito in atto. Lei cosa crede che si debba fare in Italia da questo punto di vista per aiutare il settore a esprimere il suo meglio? Fare tesoro dell'esperienza altrui perché non solo l'Italia è in questo momento in una fase dove c'è una spinta da parte delle istituzioni, da parte del governo anche se le erano state decise dal governo precedente comunque per un cambiamento nel nostro settore, cambiamento apparentemente logico ma che è già stato implementato è già avvenuto in molte altre nazioni e ha dimostrato di non essere il cambiamento che queste nazioni e quei governi si aspettavano. Ovunque si sia andato a intaccare la libertà di scelta del cliente, per esempio con un sistema di gare che quindi va a finire che privilegia certi operatori piuttosto che altri, ovunque si sia organizzato un sistema dove il prezzo è controllato e quindi il mercato è competitivo e quindi il margine tendenzialmente viene fatto tagliando i costi degli investimenti e non cercando di produrre qualità massima, sono i paesi che abbiamo visto e che citavo prima e sono stranamente i paesi del nord Europa che hanno un livello di soddisfazione decisamente molto più basso dei paesi in cui il mercato è invece competitivo e qualitativamente molto valido. Credo che questo sia uno spunto, poi sappiamo benissimo che anche da un punto di vista giuridico certi cambiamenti andrebbero a scontrarsi con delle regole che esistono già e delle leggi che sono già in vigore però in questo momento a me quello che più preme è al di là proprio dell'aspetto giuridico, importantissimo e fondamentale non si possono prendere delle decisioni che vadano contro delle leggi dello Stato, questo evidentemente va fatto presente ma il tema principale è in che modo noi Italia riusciamo a garantire alla persona ipocusica di poter avere accesso alle migliori cure possibili e al miglior rimedio possibile con il minimo sborso giustamente economico da parte sua e questo avviene in mercati competitivi dove è la competizione a ridurre il prezzo in tutte le nazioni, in tutti i mercati competitivi abbiamo operatori low cost, medium e di alto prezzo ognuno decide in un mercato libero il proprio posizionamento e la concorrenza si basa su questo ci sono degli aspetti buffi in Francia regolamentando per il futuro il prezzo a cui verranno rimborsati gli apparecchi che saranno rimborsati completamente alla fine hanno stabilito un prezzo a 950 euro che è superiore al prezzo che viene attualmente proposto da uno degli operatori del mercato e questo lo si legge nella relazione che l'autorità per la concorrenza francese l'anno scorso ha scritto al termine di uno studio, non un'investigazione, uno studio c'erano delle aziende che vendevano a un prezzo medio di 750 euro quindi perché andare a mettere un tappo? se il tappo non c'è qualcuno si posizionerà sempre e comunque sotto il prezzo a cui tu vorresti mettere questo e se lo metti sotto la qualità ovviamente si deteriora sono ragionamenti estremamente semplici concludo con uno molto sintetico non è vero che il sistema che fa pagare meno al cliente è quello in cui il cliente risparmia di più l'esempio, uno dei tanti esempi che posso fare è l'Olanda in Olanda un sistema di gare riduce moltissimo il prezzo di vendita finale e inoltre le assicurazioni coprono a tutti il 75% dell'importo totale quindi al cliente deve solo pagare il 25% di un importo calmierato in Olanda in realtà proprio in seguito a questo aspetto si sta sviluppando un mercato privato un mercato libero di clienti che vogliono, che desiderano e che pretendono una qualità di servizio e una qualità di prodotto servizio di classe superiore e che per averla sono disponibili a spendere di tasca propria cifre molto più alte quindi alla fine cosa si ottiene? Un finto risparmio, un finto risparmio per il cittadino che se vuole invece avere un buon prodotto, un buon servizio è disponibile e si ritrova a spendere molto di più Ancora una rapidissima battuta in particolare riguardo alle nuove generazioni a questo congresso ci sono molti studenti quindi sono persone che dovranno in qualche modo ereditare una situazione in grande evoluzione cosa consiglia a chi si affaccia a questo mestiere e che cosa insegna anche come osservatore del cambiamento così rapido di situazione? Beh intanto l'invidio molto ovviamente e vorrei fare cambio immediatamente credo che abbiano avuto la bravura o anche la fortuna di cercare di trovare una professione che è in sviluppo, è una professione in evoluzione costante e continua ed è una professione in ambito sanitario che garantisce e promette crescita e durata nel tempo quello che consiglio, e mi fa un po' effetto e paura farlo perché questo vuol dire che ormai sono passato decisamente dalla barricata e sono passato dalla parte di quelli che sono considerati teoricamente saggi cosa che io non mi ritengo quello che consiglio loro è di, cose banali e ovvie, applicarsi certamente io gli consiglio di non aver paura di innovare comunque l'Italia è cresciuta enormemente in questi sei anni è cresciuta in seguito a una serie di decisioni prese nel passato la più importante di tutte è il fatto di riconoscere la professione regolamentarla e istituire una laurea nell'ambito delle discipline mediche che ha portato un enorme cambiamento chi arriva adesso ha mediamente una cultura molto superiore rispetto a chi li ha preceduti allora devono carpire e rubare i segreti e l'esperienza da chi li ha preceduti ma certamente non devono aver paura a innovare e utilizzare ciò che hanno imparato grazie, dottor Baroni, buon lavoro